La città di Trento, i trentini assieme ai compagni e amici di Poltano sono in piazza a manifestare contro il TAP. Una manifestazione importante, grande, la seconda che ci fa il trentino contro questa opera inutile e costosa. Una manifestazione riuscita nonostante la stampa, nonostante il silenzio dei mass media che forse su ordine dei dettagli hanno deciso di cancellare questa manifestazione prima ieri. E quando ne hanno parlato, ne hanno tramisato, hanno cercato di traminarne il significato. Hanno parlato di una manifestazione solamente in solidarietà con la Valciugia, che è una cosa importante. E anche oggi non siamo qua per dire, per portare la nostra solidarietà ai compagni italiani della Valciugia, che si stanno ponendo a un'opera devastante come la Torino-Lione. Ma ci dimenticano, ci sono dimenticati, di dire che oggi siamo in piazza per protestare anche contro il tunnel del Brennero, contro il tunnel del Brennero, questa opera di 200 chilometri, di cui 880 in Valeria, che è in alto e in alto territorio, le nostre città, le tre persone nostre, sul nostro territorio, con le tante di cantiere, mette in discussione 870 e 20 fagli a vivere. Crea 60 miliardi di dettico che saranno tutte le spazze dei nostri figli e dei giovani. E poi cercano, hanno cercato di dire che c'è una situazione di preoccupazione, di paura. Hanno messo in bocca e avuto scritto parole vainette, come quelle che ci sarebbero persone esterne che vengono a fare casino durante la manifestazione. Questa manifestazione li sta smettendo sfumoratamente. sta dimostrando che i cittadini stanno protestando contro la Tav. Ce l'hanno con il governo dell'Ai, il quale è responsabile di queste politiche, di questo progetto. Non prendiamo c'è la sola con Monti, non è solo il governo tecnico che vuole la valciuta e che vuole chitarre grandi opere. A casa nostra, il governatore dell'Ai ha finanziato il maggiore spazio assieme a Bumane per l'opera più delastante mai fatta in Italia. Dai conti sospitanti, di 60 miliardi che verranno tanti, ai servizi pubblici, che saranno tanti alla sanità, alla scuola, ai servizi, all'ottato sociale. Ma anche a quegli investimenti sulle nuove tecnologie, sulle ricerche, sulla questione del fotovoltaio, sull'appromettazione telecana, sull'indirizzo alternativa. Ma Delai non si accontenta, vuole fare anche più uno. E ha inventato Metroland, altre cannellie in Prentino, e questo nostro comunicatore vuole mettere in Prentino come una brugliera, come il formato elementare, pieno di punti e magari sia il tappo per il nostro futuro. Questo è quello che abbiamo, oggi siamo in piastra per dire due cose, che il tappo non lo vogliamo, non vogliamo le grandi opere, non vogliamo Metroland, non vogliamo la politica di devastazione del territorio della ricostruzione a Prentina, ma anche per arrangiare una sfida a Delai. Se lui ha tutte queste ragioni per fare quest'opera, che venga, apre un confronto con i comitati, con quelli che si occupano al DAV, con i nostri tecnici, che hanno dimostrato che questa è un'opera inutile e costosa e nevastante. Delai dice che quest'opera non vuole l'Europa, niente è saputo di mentire, perché l'Europa non ha chiesto, la è la velocità. Le merci non hanno bisogno di viaggiare veloci, le merci hanno bisogno di animali frutturali. Pertanto l'Europa parla di interconnessione, parla di alta questione, di logistica, non parla di alta velocità. E l'Italia, con Tellaia, si è da molti, a molti che vogliono fare le grandi opere, perché le grandi opere significa tangenti, perché le grandi opere significa distribuzione di risorse e di ricchezze, significa debito per i nostri figli e per i nostri nipoti. ma loro non vi ne frega niente, tanto la pazienza in tasca si la mettono sempre.